Turismo, strategie delle imprese e nuovi strumenti per la promozione. Questi temi al centro dell'incontro promosso da Union Camere Calabria alla Mezzia Terme, durante la conferenza, alla presenza tra i vari del segretario generale Ermini Aggiorno, del presidente Klaus Algeri e del presidente della regione Mario Liverio, sono state presentate le due piattaforme Mappa delle Opportunità e Big Data per l'osservazione sull'economia del turismo. La prima è uno strumento di governance che deve servire ai territori per capire se un attrattore culturale importante per quell'area ha un sistema economico turistico che lo sostiene. Questo sistema di intelligenza artificiale, che contiene una serie di dati e racconta insomma quello che c'è e quello che non c'è, può essere utile per sviluppare nuove strategie per attrarre turisti. La seconda piattaforma raccoglie tutti i dati sul turismo, arrivi, presenze, addetti presenti nel sistema camerale, con altri dati che provengono dai social. Un investimento dunque sull'infrastruttura digitale. È un grande progetto quello di stare a fianco all'istituzione, in realtà enti pubblici ma anche private, che vogliono realizzare, vogliono realizzare dei progetti sul turismo. Avendo la delega come Camera di Commercio sul turismo, noi ci siamo regalizzati con un camera nazionale per fare questo tipo di progettualità. È un trend positivo certamente, ma questo noi non basta, dobbiamo pensare per il futuro, questa è la cosa più importante. Quello che noi abbiamo fatto è avere questa piattaforma con Simmo e una big data per aiutare a chi vuole progettare. L'osservatorio è uno strumento importante per monitorare sia i flussi turistici, sia le trasformazioni, le modificazioni che nella domanda turistica intervengono. È importante perché conoscere in tempo reale i dati, ma anche e soprattutto conoscere quella che è la qualità della domanda, è importante per adeguare la risposta. Ciò che emerge, a quanto appreso in conclusione, è una regione che deve crescere, che non esprime il suo potenziale turistico, che è legata ancora a un turismo tradizionale, però sta crescendo e la Regione Calabria deve scommettere su vari aspetti per rendere i territori più appetibili e avere un turismo più forte e destagionalizzato.